Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro La prima domanda ormai è uno standard e probabilmente la domanda è più semplice o più complessa dipende come la vedi Chi è Carmelo? Allora Carmelo è sicuramente un essere umano quindi essendo un essere umano ha tutti i vari problemi che questa cosa comporta però in quanto essere umano anche si esprime esprime la propria essenza diciamo anche con quest'arte che è la musica insieme a questi due compagni di viaggio per Domenico e Damiano e chi è poi cos'altro è Carmelo in una serie di cose che anche io ho difficoltà a capire sinceramente Parliamo della band quando nasce la band e soprattutto come nasce il nome? Allora la band con questa formazione nasce nel 2016 perché prima comunque questo nome di band era cioè già avevamo una band con questo nome però con altri componenti facevamo altro genere però diciamo nel 2016 nasce proprio Gizzov Lisa con questa formazione a tre io, Pier Domenico, Niglio e Damiano Niglio e il nome nasce come omaggio al sguardo della Mona Lisa perché appunto Gizzov Lisa sarebbe sguardo della Mona Lisa quindi al celebre quadro del Da Vinci perché un po' ci affascinava questo mistero che c'è dietro questo sguardo di questa donna un po' misterioso a volte in quest'alone di mistero cambia direzione a seconda di dove lo si guarda e diciamo abbiamo voluto imprimere quest'alone di mistero anche nella nostra musica cercando di provocare sensazioni diverse a seconda dell'ascoltatore ecco, cosa che diciamo in parte ci sta riuscendo e speriamo di migliorarla sempre di più Parlando dell'ultimo brano visto che adesso l'abbiamo ascoltato ci è piaciuto prima cosa da dove nasce l'ispirazione e come nasce questo brano? Allora sì, l'ultimo brano Divinamente tra l'altro è da oggi disponibile in tutte le digital store allora Divinamente dove nasce? Come quasi tutti i brani nasce da sensazioni personali cioè in questo caso Divinamente era la fotografia del diciamo del raggiungimento della serenità interiore o comunque è stato scritto probabilmente in un momento in cui ci si sentiva sereni ecco perciò si è voluto in qualche modo imprimere questa 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 sensazione nel brano sensazione che comunque poi viene affiancata da da tutte le altre sensazioni meno positive che possono accompagnarci e che poi sono tutti i pensieri negativi che abbiamo perciò diciamo questo questo contrasto tra serenità e momenti negativi della propria essenza fa da contorno al testo di Divinamente ecco ognuno scrive qualcosa c'è qualcuno soltanto che compone c'è qualcuno che si preoccupa di te oppure riuscite a fare un insieme dei brani e riuscite a trovare poi la fine l'obiettivo che è quello di riuscire a creare un baranno insieme oppure c'è solo uno che scrive sì allora diciamo che noi che esoblisse siamo tutti e tre polistrumentisti e ci piace comporre ognuno di noi fa i propri pezzi diciamo in quest'album in particolare per quanto riguarda le musiche sono state scritte da me e da Pierdomenico Niglio e i testi cioè è da Damiano Niglio quindi da tutti e tre mentre i testi soltanto da da me e da Pierdomenico però poi per quanto riguarda l'arrangiamento sicuramente c'è l'apporto di tutti e tre poi per il fatto che ognuno di noi ascolta comunque tanti generi di musica abbiamo varie ognuno ascolta la sua roba insomma diciamo questa cosa viene fuori anche nella varietà dei del sound che si può ascoltare nell'album ma comunque c'è una partecipazione attiva di tutti e tre ai membri poi alcuni brani nascono come idea di uno dei tre quegli altri due danno il loro contributo diciamo è una band una vera e propria band altrimenti sarebbe un progetto solista di qualcuno ci sono artisti a cui vi siete ispirati oppure vi hanno dato quella sensazione che vi hanno fatto così tanto innamorare a quel genere che a questo punto trattate sì allora diciamo la band che fa un po' d'accollante tra noi è sicuramente il Blue Vertigo questa band che diciamo da quando l'abbiamo ascoltato abbiamo praticamente folgorato abbiamo deciso di seguire un po' quella wave che in poche band hanno seguito ad esempio ci mi viene in mente subsonica probabilmente perché l'abbiamo ascoltato in un momento in cui stavamo iniziando ad ascoltare roba italiana una musica italiana perché diciamo da piccoli uno tende ad ascoltare solo roba che viene da altri paesi o perlomeno noi che eravamo un po' rocchettari e così poi appena abbiamo iniziato ad ascoltare musica italiana diciamo in modo più approfondito abbiamo scoperto comunque tantissima roba che ci è piaciuta moltissimo e sicuramente Blue Vertigo sono la band che ci ha ispirato di più poi ci sono tantissimi altri gruppi artisti come Battiato in particolare anche CCCP che sono nominati anche in un testo di bilancio poi i stessi Subsonica a livello musicale davvero è ampia la scelta Depeche Mode i Moderat però diciamo a livello di testi direi questi gruppi in particolare nell'ultimo brano abbiamo avuto la sensazione di dire Subsonica però aspettavo che tu mi dicessi qualcosa in realtà Pamela citati abbiamo avuto quella sensazione di aver ascoltato Subsonica in realtà la parte iniziale mi sembrava tanto poi riportava anche quel tipo di voce e non so perché ma avevo la sensazione di complimenti comunque un bel sabato sì sì è un complimento per noi ma il fatto è che ormai bisogna catalogare la genere di musica cioè uno fa pop uno fa rock uno fa electro music in realtà voi fate musica appunto che poi in un brano potete essere un po' più rock un brano può essere un po' più electro music l'altro brano può essere cioè non è però c'è ancora il fatto dell'etichetta specifica del dire che ognuno deve essere quella musica sì ma infatti è proprio questo che ci ha colpito in gruppi come Subsonica Blue Vertigo perché comunque tu ascolti un loro disco e c'è un sound o comunque già tra una canzone e l'altra il sound cambia completamente diciamo sono praticamente liberi da questa etichetta rock pop elettronica o perlomeno probabilmente è l'amalgama di tutti questi generi che sono comunque generi che ascoltiamo danno come risultato qualcosa che si potrebbe dire in un certo senso sperimentale o comunque al di là di questi schemi e quindi diciamo che questa cosa dell'andrea al di là delle etichette è molto presente in noi come probabilmente nei nostri nella gente che ci ha ispirato ecco e l'emozione e le sensazioni che provi quando sali sul palco sale e tra un pochettino si dovrebbe finalmente salire bene completamente al cento per cento teoricamente è così quali sono le sensazioni che provi quando vedi sotto il palco inizialmente le persone che sono silenziose a volte quel silenzio parla perché hanno anche l'emozione e il silenzio però si ascoltano e cominciano a ballare a scantare le vostre canzoni a quel punto che sensazioni provi? Allora diciamo da poco c'è questa nuova sensazione che abbiamo potuto constatare dopo l'uscita del disco che vedere la gente che canta i tuoi pezzi è veramente una bella botta nel senso fa parecchio effetto cioè sicuramente ti gasa da morire ti carica tant'è che diciamo con le movenze che vuoi vedere sulla gente i musicisti sono dovuti proprio a queste emozioni forti che si provano ma comunque personalmente boh salire sul palco mi fa completamente azzerare tutti gli altri pensieri mi fa proprio essere me stesso penso sia anche la cosa che provano gli altri due quindi è proprio il momento in cui possiamo essere veramente noi stessi questo il che è tutto un mix di emozioni imparagonabili cioè bellissimo infatti ora ho visto con un nuovo decreto che si potrà ricominciare a suonare al 100% della capienza speriamo di farlo prima possibile ecco perché diciamo concerti senza pubblico sono un dramma beh il pubblico è quello che dà vita anche perché quando suoni la canzone suoni il tuo brano ogni ogni concerto ha la sua vita diversa perché ogni volta di fronte c'è persone diverse e quindi prende quella canzone vive di propria vita sì poi a noi diciamo non piace eseguire esattamente i brani come sono stati registrati nel disco poi concerto dopo concerto si evolvono aggiungi quella nota in più metti quel suono in meno fai quell'arrangiamento un po' diverso quindi sì ogni concerto è un'esperienza per quanto ci riguarda è anche bello che sia così cioè se no sarebbe tutto uguale statico ecco perché e poi soprattutto suonando i pezzi ti vengono in mente delle cose nuove da poter aggiungere da poter togliere che lo fanno evolvere sempre di più e sicuramente anche guardando in faccia il pubblico le loro reazioni ci possono influenzare sul capire se stiamo andando nella direzione giusta o meno quindi così se avessi un pulsante magico che ti farebbe passare su un palco un palco a scelta indifferentemente non oggi ma un palco a scelta nel tempo e nello spazio per suonare con un artista che ti piace o con un band con che ti piacerebbe salire su quel palco vabbè come concetto direi Woodstock anche se è il nostro genere non c'entra niente però come come appunto libertà di espressione direi un Woodstock però diciamo oggigiorno diciamo rimando un po' con i piedi per terra mi piacerebbe salire su palchi che possono contenere il nostro genere di musica ma ti parlo anche di un che ne so di un Alcatraz a Milano più club più club chiusi più che stadi o comunque posti all'aperto diciamo penso che quello sia il nostro target al momento che comunque sono dei posti un botto di gente quindi quindi non c'è un artista a cui ti piacerebbe sfondare con un artista non lo so perché diciamo il rapporto con gli artisti con i nostri idoli è un po' un po' così forse è meglio non conoscerli mai non avrà che fare così rimane l'idea che hai di loro cioè perché con quelli che ci è capitato di conoscere spesso è andata così l'idea è stata un po' modificata però comunque sicuramente tipo fare da apertura ai subsonica ai loro concerti cioè sarebbe il massimo ora come ora cioè una cosa abbastanza realistica che speriamo possa succedere anzi subsonica se ci ascoltate siamo qui allora ricordiamo intanto che l'ultimo brano è già uscito si trova negli store e ripetiamo dove possono raggiungerlo sì potete ascoltarci su Spotify Apple Music o anche su YouTube diciamo su tutti i digital store ecco e ricordiamo il nome dei compagni della band allora sì c'è Pierdomenico Niglio voce sintetizzatore e programmazione elettronica e batteria anche poi c'è Damiano Niglio cori basso elettrico e contrabbasso e io Carmelo Fascella voce chitarra e programmazione elettronica bene allora noi ti salutiamo ti diamo appuntamento al primo al secondo al primo l'EP e al secondo o secondo EP perché mi pare visto che è già uscito un EP questo è il primo disco questo è proprio il disco quello di prima hidden era un EP ma CD o vinile no CD eccolo infatti è proprio qui eccolo abbiamo visto il CD ecco qui abbiamo fatto 300 abbiamo fatto stampare 300 copie in edizione limitata per chi fosse interessato ci può contattare direttamente tramite la pagina facebook tramite la pagina facebook tramite instagram al citofono dove volete insomma bene allora ci fai saluti vi ringrazio grazie per questa intervista è stato un piacere buona giornata e buon ascolto del nostro album sinonimi contrari ciao a tutti sport piceno game presenta l'intervista di pietro ciao a tutti